Buongiorno a tutti. Un grandissimo amico, una persona piena di vita, che ha dato tantissimo a questo mondo, al tango. Noi ad agosto eravamo con lui a Buenos Aires, quindi queste notizie quando arrivano non lasciano sicuramente un buon gusto, però ci tenevamo e credo che con noi, più di tutti, ci terrà ad omaggiarlo e quindi a dedicare questa serata e questa esibizione, questa propria speciale che abbiamo un grande honor di avere qui a Tos Corazones, lei brasiliana, lui argentino, Maria la Casa Grande, Daniel Oviedo, a Tos Corazones, Tano Academia! Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti.